Anna Valle vince il titolo di Miss Italia nel 1995. È nata a Roma il 19 giugno del 75, ma essendo cresciuta a Siracusa, si è presentata a Salso Maggiore come Miss Sicilia. In concomitanza con la vittoria del titolo, già diplomatasi al liceo classico, decide di abbandonare la facoltà di giurisprudenza alla quale si era iscritta un anno prima, per dedicarsi al mondo dello spettacolo. All'inizio della sua carriera appare nel video musicale del brano di Gianni Morandi, Giovane amante mia, l'anno dopo ha partecipato a Miss Universo a Las Vegas e a Miss Europa a Tirana. Ha iniziato a recitare in molti film e serie tv che le hanno dato una grande popolarità, con Messe, Per Amore, Papa Giovanni e molti altri. Ha anche recitato in alcuni progetti internazionali come Augustum, con Peter O'Toole e Charlotte Rampling, in cui ha interpretato Cleopatra, la regina egiziana, e la serie televisiva tedesca Aeon. Tuttavia, i suoi ruoli più importanti sono tre, quello della sfortunata principessa iraniana Soraya, nel film biografico sulla sua vita, il cui titolo è appunto Soraya, uscito nel 2003, poi la dolce amante Margherita nella miniserie televisiva Cuore, la cui interpretazione le ha consentito di vincere il prestigioso premio La Grolla d'Oro. E ancora la ricordiamo cimentarsi nell'intensa interpretazione di Claudia Castelli nella serie tv Le stagioni del cuore, con Alessandro Gassman. Per il cinema ha lavorato in sei film. Le faremo tanto male, regia di Pino Quartullo, 1998. Sottovento, regia di Stefano Vicario, 2001. Solo Metro, regia di Marco Cucurnia, 2007. Miss Tech, regia di Filippo Cipriano, 2008. Carnera, The Walking Mountain, regia di Renzo Martinelli, 2008. L'età imperfetta, regia di Ulisse Lendaro, 2017. Ha avuto anche qualche piccola esperienza come presentatrice televisiva, ma ha sempre preferito fare l'attrice, affinando le sue doti anche attraverso il teatro e lo studio della recitazione. È sposata con il produttore Vincenzo Lendaro, con il quale ha avuto due figli, Ginevra e Leonardo.